Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, rieccoci ben ritrovati. La cronaca in primo piano partendo da Palermo, dove la Guardia di Finanza ha effettuato una confisca di beni da 26 milioni di euro nei confronti di un imprenditore, Rosario Castello, vicino a Cosa Nostra, ma per tutti i dettagli. Vediamo il servizio. Beni per 26 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Palermo a Rosario Castello, 72 anni, imprenditore nel settore delle auto di lusso, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione su richiesta della DDA. L'imprenditore avrebbe procacciato auto pulite utilizzate dai latitanti del mandamento palerbitano di Brancaccio, tra cui Lorenzo Tinnirello e Cristofaro Cannella. Avrebbe messo a disposizione luoghi sicuri dove poter organizzare riunioni riservate tra uomini d'onore e infine avrebbe investito denaro proveniente dal boss Antonino Spadaro. Le indagini del GICO avrebbero fatto emergere una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio nella disponibilità dell'imprenditore e del proprio nucleo familiare. A Castello erano riconducibili attività commerciali esercitate in stretta commistione di interessi con Cosa Nostra e beni immobili acquistati con i ricavi derivanti dalle sue imprese. Il sequestro era scattato nel 2014 e ora è arrivata la confisca per tre società e relativo capitale sociale, quattro fabbricati commerciali, due ville di pregio e quindici rapporti bancari e finanziari. E sempre a proposito di lotta alla mafia, i carabinieri hanno effettuato delle confische per oltre 500 mila euro sempre nella Palermitano. Vediamo il servizio. Le attività d'indagine finalizzate all'individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, svolte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Palermo, hanno portato all'emissione da parte della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, che ha accolto le richieste della Procura della Repubblica, di due provvedimenti di confisca di beni per un valore di circa 350 mila euro, a carico di Letteria Caponata e per circa 200 mila euro a carico di Vincenzo Urso. A Caponata è stata confiscata una società con sede a Calta Vuturo, operante nel settore dei trasporti, irrevocabilmente giudicata tra le disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili a Stefano Albanese, tratto in arresto nell'ambito dell'operazione denominata Cupola 2.0 perché intraneo alla famiglia mafiosa di Polizzi Generosa. L'inchiesta Cupola 2.0 dei carabinieri del nucleo investigativo di Palermo aveva sventato il tentativo di far rinascere la commissione provinciale di Cosa Nostra dopo la morte nel 2017 del suo capo indiscusso, il boss Totò Riina. Vincenzo Urso è stato invece tratto in arresto nell'ottobre 2017 nell'operazione denominata Nuova Alba della Compagnia di Bagheria, con l'accusa di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Altavilla Milicia. In particolare, nell'ordinanza di custodia cautelare, viene contestato il ruolo attivo nelle estorsioni e nelle riscossioni delle somme di denaro destinate al sostentamento degli affiliati detenuti in carcere. La confisca riguarda un appartamento e un appezzamento di terreno ad Altavilla Milicia. Evade dai domiciliari e poi, fermato dai carabinieri, danneggia proprio l'auto di servizio dei militari dell'arma. Il fatto è avvenuto a Trapani e un trentenne è stato tratto in arresto per evasione e danneggiamento, ma per tutti i dettagli. Vediamo il servizio. I carabinieri della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto per evasione dai domiciliari e danneggiamento un trentenne pregiudicato trapanese. I militari dell'arma, durante un posto di blocco eseguito in piena notte, hanno fermato un'autovettura con a bordo due persone, riconoscendo il noto pregiudicato seduto sul lato passeggero, il quale avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari. Durante lo svolgimento dei controlli, il soggetto è andato in escandescenza scagliando un pugno contro il lampeggiante dell'autovettura di servizio dei carabinieri, danneggiandolo. A seguito del rito direttissimo, il trentenne è stato sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari. Da Trapani a Priolo Gargallo, siamo quindi nel Siracusano, qui una donna di trentasette anni è stata arrestata dai carabinieri e condotta in carcere. È infatti accusata di furti e truffe e deve scontare alcuni anni di reclusione. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Priolo Gargallo hanno tratto in arresto una donna di trentasette anni in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella. La trentasettenne, infatti, è stata riconosciuta colpevole di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e truffe ed è stata condannata a quattro anni e nove mesi di reclusione. Pertanto l'arrestata, dopo le formalità di rito, è stata associata alla casa circondariale di Messina-Gazzi, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Un arresto anche a Catania effettuato dalla Polizia di Stato. Si tratta di un 42enne che è stato poi condotto in carcere. Continuava, infatti, a maltrattare e minacciare di morte la propria madre anche in presenza dei poliziotti. I poliziotti della squadra volante della questura di Catania sono intervenuti in piazza Eroi d'Ungheria presso il commissariato Onesima per la presenza di una donna alla quale ha riferito di aver subito un'aggressione da parte del figlio mentre si trovava all'interno della propria abitazione. Ha inoltre raccontato agli agenti di altri interventi effettuati dalle forze dell'ordine sempre per gli stessi motivi. Il figlio della donna, nel corso della giornata, aveva litigato anche con la compagna. Poco tempo dopo, anche il presunto aggressore, un pregiudicato catanese di 42 anni, si è presentato in commissariato insieme proprio alla compagna. L'uomo era in evidente stato di alterazione e incurante della presenza degli agenti, ha iniziato a inveire più volte contro la madre, minacciandola anche di morte. I poliziotti, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo e riportarlo alla calma. La madre, esasperata per l'ennesima aggressione, ha deciso di formalizzare denuncia nei suoi confronti. Al termine delle attività di rito e in considerazione dei precedenti specifici, il 42enne è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti nei confronti della madre. Il PM di turno ha disposto di associare l'arrestato presso la casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa del giudizio di convalida, all'esito del quale il GIP ha convalidato l'arresto e ha disposto per il soggetto la custodia cautelare in carcere. Restiamo a Catania, ma parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti con i carabinieri che hanno beccato e tratto in arresto un giovanissimo pusher. Si tratta di un 22enne che i militari hanno trovato in possesso di un chilo di crack e 200 grammi di cocaina. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno tratto in arresto un 22enne trovato in possesso di un chilo di crack e 200 grammi di cocaina dal valore al dettaglio tra gli 80 e i 90 mila euro. Il giovane aveva allestito un florido commercio di stupefacenti a domicilio in cui si preoccupava di consegnare lui stesso a bordo di uno scooter la droga agli acquirenti. I carabinieri hanno quindi deciso di avviare una serie di servizi di osservazione a distanza e in modalità discreta lungo le strade che il corriere era solito percorrere velocemente, attendendo il suo passaggio e il momento più propizio per bloccarlo, scongiurando una possibile fuga. Dopo qualche ora, gli investigatori hanno visto arrivare il 22enne alla guida di uno scooter, il quale iniziava a fare avanti e indietro in atteggiamento estremamente vigile. Verificata l'area, il pusher ha parcheggiato il mezzo a due ruote e guardandosi continuamente attorno ha recuperato una busta di plastica dal bauletto dello scooter per poi avviarsi verso il portone di un palazzo. I militari del nucleo investigativo hanno quindi dato via al blitz, intervenendo immediatamente prima che il 22enne riuscisse a entrare nell'atrio della palazzina. Dentro la busta sono stati recuperati involucri e bustine in cellofan trasparenti e termosaldate contenenti ben un chilo di crack e 200 grammi di cocaina. Tutta la droga è stata sequestrata, mentre il 22enne è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari. Un altro arresto, sempre a Catania, si tratta di un 25enne accusato di tentato furto aggravato. Gli agenti della squadra volante della questura di Catania, impegnati in un servizio di controllo del territorio, transitando per Viale Ruggero di Lauria, sono stati contattati da un collega libero dal servizio, il quale si era accorto di un tentativo di furto ai danni di un'autovettura da parte di un individuo che si stava allontanando. L'uomo segnalato è stato prontamente raggiunto dalla pattuglia e bloccato dai poliziotti, i quali lo hanno identificato in un 25enne catanese con diversi precedenti di polizia a carico. Gli agenti hanno accertato che il giovane aveva infranto il finestrino anteriore destro di un'autovettura parcheggiata nel tentativo di compiere un furto. Nel frattempo è stato rintracciato il proprietario dell'auto che ha presentato una formale querela consentendo così l'arresto del giovane in quanto gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato. Accompagnato presso gli uffici della questura, i poliziotti hanno informato dell'accaduto il PM di turno che ha disposto per il giovane la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell'udienza con rito direttissimo. L'indagato è stato contestualmente denunciato in stato di libertà per il reato di porto di armi o d'oggetti atti a offendere in quanto trovato in possesso di un coltellino. Cambiamo decisamente argomento, iniziativa della regione siciliana in occasione dell'8 marzo, la festa internazionale, la giornata internazionale delle donne, donne che potranno entrare gratuitamente nei luoghi della cultura dell'isola. Anche quest'anno l'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana aderisce all'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per celebrare l'8 marzo, giornata internazionale della donna. In questa occasione speciale i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura della regione siciliana accoglieranno gratuitamente tutte le donne, offrendo un'occasione preziosa per esplorare e valorizzare il ricco patrimonio culturale di cui dispone l'isola. Questa iniziativa, ha dichiarato l'assessore ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, rappresenta un gesto simbolico per esprimere il nostro profondo rispetto e la gratitudine verso tutte le donne, il cui valore va ovviamente oltre il singolo giorno dell'8 marzo, un'occasione in più per riconoscere e celebrare il loro impegno e la loro forza, ha concluso l'assessore Scarpinato. Parliamo di calcio, andiamo ad ascoltare le dichiarazioni del tecnico del Catania, Luca Relli, dopo l'ennesima sconfitta in campionato. Sì, intanto a titolo personale mi scuso per il risultato con i nostri tifosi perché ovviamente è un risultato pesante nelle dimensioni, anche se probabilmente i contenuti della partita, il risultato è un po' troppo largo, però mi sembra doveroso. L'altra cosa, sì, amareggiato perché non mi aspettavo di prendere tre goni in contropiede ad Avellino, in un quarto d'ora, dal trentesimo al quarantacinquesimo. Quindi è ovvio che sono amareggiato perché è chiaro che magari dopo l'1-0 non abbiamo avuto la serenità di portare quel risultato, quantomeno di finire il primo tempo con quel parziale e poi giocarsi tutti i secondi, 45 minuti. Abbiamo cominciato a cercare di voler per forza riprendere la partita subito e purtroppo è stato deleterio perché abbiamo preso tre goni in contropiede, in fotocopia praticamente. Ma noi siamo un po' Dottor Jackie e Mister Hyde, cioè in Coppa Italia sulla partita secca riusciamo ad essere forti e a riuscire sempre a vincere. E poi c'è questo benedetto campionato che è iniziato male, sta continuando male, che sta diventando un po' un rompicapo, non si capisce perché magari abbiamo lo sconso. Oggi si guardava la classifica delle prime sei, noi abbiamo battuto a Juve Stabia, abbiamo battuto il Benevento, abbiamo battuto la Casertana, abbiamo battuto tutte le prime sei tranne l'Avellino, quindi vuol dire che questa squadra ha dei valori. Poi spesso e volentieri con le piccole facciamo una gran fatica, quindi è un po' il rompicapo perché, ripeto, sono due atteggiamenti completamente diversi tra la Coppa Italia, dove siamo riusciti a arrivare in finale e a guadagnarci il terzo posto, e il campionato dove non riusciamo ad avere una continuità. Per il momento è tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia, a più tardi. Grazie. Grazie.